A voi tutti l'augurio di una buona giornata, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, come sempre siete in tanti al mattino a seguire la rassegna stampa Occhio ai giornali sul canale 17 di Fano TV, canale 17 che trasmette in tutta la regione Marche e che si occupa prevalentemente per ovvie ragioni della provincia di Pesaro e Urbino. Allora andiamo a vedere subito il santo del giorno con il calendario che oggi ci ricorda che la chiesa fa memoria di San Mosè, profeta Mosè, vedete con le tavole della legge, il sole sorto alle 6.33 e tramonterà le 19.41. Allora vediamo subito il tempo, il tempo per la giornata di oggi, lunedì 4 di settembre, oggi avremo un cielo poco nuvoloso con temperature minime in ulteriore lieve diminuzione, erano 13 gradi questa mattina almeno qua in provincia di Pesaro sulla costa alle 7 del mattino, le massime sono in ripresa, avremo ancora un po' di venti in attenuazione nel corso della serata, il mare sarà poco mosso al mattino mentre sarà mosso il pomeriggio. Per la giornata di domani, martedì 5 di settembre, avremo ancora il cielo sereno o poco nuvoloso con venti deboli, le temperature sono senza variazioni di rilievo, il mare sarà mosso. La parte centrale di questa settimana sarà caratterizzata da temporali, quindi attenzione perché insomma giovedì e venerdì avremo ancora pioggia e stando alle previsioni insomma anche pioggia intensa. Allora cominciamo dai giornali, andiamo a vedere i giornali, partiamo dal resto del Carlino, questa è la fotonotizia, sapete è stato preso il capobranco, dunque parliamo degli stupri avvenuti a Rimini, è la pagina del Carlino di Pesaro, fate giustizia, questo è il titolo, preso anche il capo degli stupratori, stava cercando di fuggire in treno, ora tutto il branco è in carcere e deve pagare per le terribili violenze. Dunque c'è stata una sinergia certamente tra carabinieri e polizia per quanto riguarda la cattura di queste persone, i telefonini sono stati fondamentali, pedinati fino agli arresti, la famiglia di questo giovane che vedete nella fotografia doveva essere rimpatriata ma non accettò. Poi si sta cercando di capire se alcune persone, altre persone in passato come per esempio alcune liceali ed una coppia siano state forse circondate in altri episodi dagli stessi individui. La pagina del Corriere Adriatico, allo stesso modo ci presenta la fotografia del momento della cattura, dell'arresto che se vogliamo è anche un po' simbolica questa fotografia perché come vedete a portarlo via dalla questura, a portarlo in carcere, sono due donne e non a caso, due donne che lo stanno portando in carcere. Presa l'ultima belva, questo invece è il titolo che ha scelto il Corriere Adriatico questa mattina, il ventenne congolese catturato alla stazione di Rimini era il capo del branco dei stupratori. Anche l'ultimo autore dunque dello stupro di Rimini è stato arrestato, si tratta del ventenne congolese sottoposto a protezione umanitaria catturato sul treno perché voleva fuggire. Mentre il Corriere ospita anche il parere del professor Meluzzi che dice l'integrazione è un'utopia, un sogno irrealizzabile, i mostri sono ragazzini che non possono guidare né votare eppure sanno picchiare e stuprare sul caso delle belve parla lo psichiatra e scrittore Alessandro Meluzzi. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Ci soffermiamo soltanto un attimo su una pagina interna del resto del Carlino per dare spazio alla intervista che Alessandro Mazzanti del Carlino ha fatto con la responsabile della sezione migranti della cooperativa Labyrintho della quale si è parlato con qualche polemica soprattutto arrivata dal fronte leghista, si chiama Cristina Ugolini. Cristina Ugolini che dice con noi è sempre stato corretto ma questo arresto ci sconvolge. Dunque Guerlin Butungu, questo è il nome del capobranco, arriva con un barcone in Italia forse dalla Libia, la cooperativa Labyrintho lo va a prendere ad Ancona, per lui la prima accoglienza inizia nel novembre 2015, poi ospite ad Acquaviva di Cagli e qui c'è il racconto di quello che ha fatto dal 2015 al 2017. Sotto c'è la polemica della Lega che in queste ore è inferocita su questo argomento, la Lega attacca quanti Guerlin Butungu ci sono adesso in Italia, il consigliere Dall'Asta dice visto questa città non è per nulla un'isola felice. Cambiamo argomento, cambiamo pagina e andiamo a parlare invece di un'acquazione, quello che c'è stato ieri mattina, breve ma intenso, Fano va subito in tilt, allagamenti ovunque, chiusa via Pisacani, il Comune studia i rimedi per il futuro. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico è sul Carnevale, Carnevale avanti piano, il malumore dei carristi, incognita sull'avvio delle nuove allegorie per il saldo ancora incerto di quelle del 2017. Ruben Mariotti, uno che di Carri se ne intende, associazione carristi, Capanoni necessitano di manutenzione e anche di un impianto di aspirazione. Per Sorcinelli e Angherà, altri due maestri carristi, la spesa per la categoria deve essere fissa, ci rimettiamo, dicono sempre noi carristi. Sotto finalmente piove, la città torna ad allagarsi, chiuso il sottopasso del Lido e acqua sulla statale, interventi dei vigili del fuoco anche in tre case, in tre abitazioni. Arrugginite e ignorate le biciclette per il centro, ancora dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Qualcuno si ricorderà delle bike sharing, cioè di quelle biciclette che si possono prendere con una tessera da utilizzare per andare in centro storico. Ci sono sei postazioni in giro per la città, o meglio ci sono alcune postazioni, sei delle quali, non so poi se siano tutte, sono postazioni usurate dalle condizioni meteo, velocipedi maltenuti e pressoché praticamente adesso li usa. Quindi è come se fossero adesso lì in un deposito a cielo aperto, biciclette malandrate, insomma vedete con la catena che non va più, ecco quindi tutta un po' così, tutto lasciato un po' all'abbandono. Brodetto invece quattro giorni di show in cucina sul palco, ecco gli appuntamenti musicali, otto concerti eseguiti in due location. Dunque fervono i preparativi per la quindicesima edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce che da giovedì a domenica animerà il Lido di Fano con degustazioni, poi ci saranno i famosi cooking show, spettacoli, convegni, lezioni di cucina, talk show, spazio bimbi e una gustosissima serata internazionale e dobbiamo dire che tra i media partner c'è anche Fano TV perché dove ci sono le grandi manifestazioni c'è anche Fano TV. Allora andiamo sulla pagina di Pesaro, adesso il resto del Carlino, Pio Verenzi fa lo stesso, il bagno di folla, domande via WhatsApp, ho fatto troppi errori di comunicazione, avanti con i fatti e contro la palude, il milione di posti di lavoro li abbiamo creati. Ieri alla festa dell'unità di Pesaro c'è stato l'ex premier Matteo Renzi. La festa dell'Aquilone a Urbino vince, trionfa la Vagine, l'assessore Vittorio Sgarbi ha dato il via alla sfida con il decano Sirto Sorini e lo vedete qua, Vittorio Sgarbi con l'Aquilone. Andiamo sulla pagina ancora di Urbino, però questa volta del Corriere Adriatico, stessa più o meno fotografia, Aquiloni domine il verde di Lavagine, la cometa della Contrada ha volato più in alto di tutti, inseguita dal rosso di San Bernardino, i temporali e la pioggia non bloccano dunque la Kermesse ma non consentono il record di presenze. Giorgio Ubaldi che è il presidente delle Contrade ha detto questa manifestazione è ormai divenuta assai grande in età. Andiamo adesso avanti sulla pagina della Valle del Cesano, Poggetto fa una doppietta, il Borgo vince, siamo a Serra Sant'Abbondio, vince il Palio, sia il Palio della Rocca che quello dei Monelli, tra le donne Montevecchio, migliaia di visitatori nella tre giorni di manifestazione, una fedele ricostruzione storica di questo importante Palio che si tiene appunto nel Pesarese. Poliziotto, siamo sulla pagina di Senigallia, quindi andiamo in provincia di Ancona, Poliziotto aggredito da un vicino di casa, parte un colpo dalla pistola dell'agente, era fuori servizio, è finito all'ospedale dopo la lite in un condominio di Marzocca. L'altro è scappato, il celerino del reparto mobile di Senigallia ha il pronto soccorso per aver subito due pugni al volto. Un furto, sempre dalla cronaca di Senigallia, un furto in una scuola elementare, fuga con un lettore CD e un proiettore, ladri in azione a Cesano, si sono aperti un varco dall'uscita di sicurezza. E poi ancora da Iesi, un operaio picchiato, adesso è caccia ai Rom, attorno ai 25 anni, originario dell'est europeo, l'identikit degli autori dell'aggressione per una sigaretta negata. L'agguato è avvenuto nelle vicinanze della stazione di Iesi, nella zona non ci sono telecamere di video sorveglianza. Il quarantenne era sceso dal treno, di ritorno dal lavoro e stava passeggiando prima di andare a casa. Ed è stato picchiato perché? Perché ad un Rom che gli aveva chiesto la sigaretta lui ha detto di no. Parliamo adesso di sport, velocemente nella rassegna stampa di questa mattina, partiamo dalle farfalle, i campionati mondiali di ginnastica rimmica che si sono conclusi a Pesero, farfalle dorate, questo è il titolo del Corriere Adriatico, splendido titolo mondiale delle Azzurre nella prova dei 5 cerchi, 100 fanti, trionfa, più di 6.000 spettatori all'Adriatico Arena, ma che rabbia nelle tre palle e due funi che potevano andare meglio. Pieri Gioisce, grande evento e tanti complimenti ricevuti, ha vinto anche Pesero. Qualcuno l'ha definita una delle manifestazioni più belle che si sono registrate. Le farfalle, qui siamo sul Carlino, volano sul mondiale, sono le regine dei 5 cerchi, le Azzurre conquistano in casa il titolo irridato. E questa è la pagina appunto dei mondiali. Mentre la fotografia sul Corriere Adriatico è per Valentino Rossi su una sedia a rotelle e con la gamba destra, vedete, ingessata, Valentino Rossi lascia l'ospedale di Torretti, adesso per lui c'è la riabilitazione. Il titolo incontenibile Valentino va forte anche in stampelle, la mamma e il fratello sempre con lui, nei prossimi giorni controllo ad Ancona. E poi il Fano, il Fano calcio, l'Alma Juventus Fano, KO a Padova, però non sfigura. Contro la corazzata ripresa all'altezza, Padova sotto 2-0, accorcia e sfiora il pari. Gattari, l'uomo ovunque, riaccende le speranze e poi colpisce anche un palo. Comunque risultato finale, Padova 2, Fano 1. La Vis invece che debutta alla grande con un poker storico, 4-0 in casa della Re Canatese, ma mai un successo in trasferta, spettacolari doppiette di Carta e Olcese. E chiudiamo invece con una notizia che è un po' sport e un po' cronaca, perché a Fermo, la Fermana stava vincendo 1-0, è stata sospesa al 32esimo del primo tempo, perché a un certo punto è andato a fuoco il generatore di corrente che stava illuminando lo stadio, i lampioni dello stadio, e dunque buio sul derby, questo è il titolo. Tutti a casa, Fermana Samba sospesa al 32esimo, fiamme al generatore di corrente e al Recchioni va via la luce. I Canarini erano in vantaggio per 1-0 grazie ad uno strano autogol causato da un tiro di Cremoli. La segna stampa finisce qui, grazie per averci seguito, da adesso in poi la redazione si attiva per cercare notizie da proporvi questa sera nel telegiornale, se volete collaborare con noi il 338 49 68 250 come sempre è a vostra disposizione. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e a voi tutti l'augurio anche di una buona settimana, ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci.